Dio Cristo, no. Tocca andare in chiesa a farmi esorcizzare adesso. Porca puttana. Sapevo io che succedeva poi. Un amico Neil. Questo game mi puzza di merda. Pure con i tre che sanno prendere il time base. Ok. Guarda bellissimi. Spacco di vasto. Trenta secondi alla generazione dei minion. Spacco di vasto. Che se di ragazzi bel feeling, bel feeling. Non sarà comunque, oh, non sarà top build. Perché adesso giocano ancora quella P. E come da ritorno, va bene, solo che io ho un sacco di cose. Però la D, ragazzi, c'ha quel feeling, c'ha quel sapore. Caesa D, che Caesa P non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Cioè, chi gioca a Caesa mi capisce. Voi che giocate Caesa. Voi, voi là fuori che giocate Caesa. Lo capite? Ce lo sapete? L'avete sentito anche voi che Caesa P... C'è Caesa P è un po' come... È un po' come la Pepsi e la Coca-Cola, no? Cioè, la Pepsi sa di cola, ma... Gli manca quel qualcosa. Quella è Caesa P. E vacca Troia, che inculata pazzesca, sti due, oh. Buon plating addirittura. Mi temi così tanto, man. Spero di far più danno a questi mene. Belli pazzi, eh? Istitui tizi fuori, oh. Mattissimi. Favoloso. Adesso è arrivato il sub di admin. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 Vedi il trade quarto colpo Q però è un pochino Il mio carretto cazzo Dio Cristo Perché non gli ho sparato una V Dio santo Soffro Eh anche questo Verso malissimo In uno uno no però eh Torto il cazzo Siamo qua Ho rivolgato sai in mid Ah vabbè ma in mid raga Mid don't care Mid don't care Lo? Zillian Maddio Cristo Maddio Cristo Zillian Eh di nuovo quarto colpo Q Ma me lo meriti di perdere questo game allora cazzo Spacco di basto Oh Spacco di basto E basta Sto pensando di fare Una Non penso di una kill Non saprà nessuno ragazzi che mi ha messo la V Tranquilli Ok Ciao che a me mi è giocato Viego ADC No fallo sono free le P Grazie braccio sinistra Lo farò Spacco di basto Let's go Andiamo Lo farò lo farò Ma è normal che so giocare Kai's Xayas a Mira Ma non so giocare Jin Certo man What the fuck Totalmente diverso Jin C'entra un cazzo Cosa build this La figa Trasta me Trasta me Trasta me Trasta me Trasti Slavik Trasti Trasti Trasta me Trasti Trasti Spacco di basto Zilen si caca molto addosso Come mai Chi ha il minion guerriero che va fino alle retrovie di Osanto soltanto per lastitare il cazzo di Caster Ignora il carretto ignora ogni cosa Va fino alle retrovie per lastitare il cazzo come questo qua Ci sono questi minion qui Minion Rambo Dio santa E' tornato E' tornato Mattia E' come mai il pugnale si è ghettato su Jin E' tornato E' tornato il come mai il pugnale si è ghettato su Jin Perché sono un fottuto pazzo ecco perché Non capisco il cazzo di questo gioco Sì uno Uno A sto punto cerco di mandarvi sotto torre fino Ficcazzo Ah fuck Quarto coppia Vado a tenere una bro quest Oh belle ward Eh Zilen C'hai? Non ce l'ha Fuck Ecco no comunque non c'è pink Ok zack e mid A parte che in realtà serveva un cazzo questa ward quando contro zack Dio santo Mi se lo ricordava che c'avevamo contro zack Ah non rimbalza Ok Farma? Yeah Ok Vacca troia che v storta Si deve essere storto l'occhio di vetro Quelli shit Beh non ho mana Ok Ah ok adesso è tornata a posto l'occhio Adesso è tornata a posto Un po' eccessiva Però Ok ok Meno male che mi è tornata a posto l'occhio Dio santo È brutto eh raga Quando succede Dio santo Mamma mia Ma questo è un po' per extendere Andassi Vabbè Prendiamo questa placca Andiamoci Andiamoci Stando bene Sta andando bene It's cool Questa è questo game It's cool Oh Ok Oh 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 Minion che rimangono a uno però Minion che rimangono a uno però Non saranno mai benvenuti Bella V 40 secondi alla ulti Quindi quella rimane là Scusate man Io c'ho ancora la V Fra Un milione di anni No il crit 24 mil 24 CS Cazzo CS No va fanculo Gold Qui arriva Zack by the way Ma c'abbiamo Irelia Ma Irelia Faccio cagare Arriva qui in bot Zucca Si è tolto dalla trappola Come cazzo ha fatto Oh beh come Scusate Qualcuno mi racconta Come cazzo ha fatto il game In due minuti Ad andare a puttane Come cazzo è successo Ste bombe sui CS Sono peggio che meglio Me li stili e basta Bastardo Che sta facendo Che sta facendo Che si è svegliato Ecco che c'era E se basta Stava caricando Per saltarsi di me Ma Zillian Va bene Era mezzo morto 30 secondi Bravo Grazie mille 13 bitman La piselloni Rotation challenge È una sfida Con poche semplici regole Toccherò ogni pisellone A rotazione Non potrò cambiare Saca Finché non sburro un game La chat Sceglierà sempre Il prossimo pisellone Tra i piselloni Già recensiti I sub potranno fare A pisellate Duelo O 2 vs 2 Con me Clicca sul link Per vedere Quali piselloni Non ho ancora recensito Grazie bravo Grazie 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 mille Ci chiamo un po' di chi Su sto stronzo Dai Vi non ho la ultima Oh Peccato per la kill Se no non ce l'ho ancora Ma ma stai i 7 Mattia Sua felio Smy Oh sua felio Sto agita Zeri la faccio Quando La fanno diventare Una di carry Invece che Voliber col fucile Dio santo Quando Zeri smette Di essere Voliber col fucile Tornerò a giocarla Non ho visto Se prima Aveva riattivato Di nuovo La volti Nel fiume Comunque Io qui sto Pusciando Una wave Che non posso Pusciare Ok So che mento Sì 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 Let's go A parte che non è first hour quindi Non importa Buona serata Chi era che non trastava lo start di pugnale seghettato Slavik Slavik Carriato completamente Slavik non trasta Slavik non trasta Slavik morto Slavik morto Slavik 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 Dio santo Bito un po' Ah merda Ricordiamo Sì bravo è il magister Magister Oh 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 Ok Un'alleata Questa è safe Non molto Infatti sta arrivando anche Che è Queen Che è Queen Oh yeah ahah chiamo oh fuck potrei rispondere zio vabbè che pezzo di merda zio però però complimenti per i primi vedocci complimenti me l'hai fatta me l'hai fatta oh fuck oh io ho trastato eh eh ho fatto un po' male a trastare quella cazzo di ulti zillion che riportarmi in vita mi ha riportato in vita ci faccio poco cazzo va bene dai questo game in realtà serve all'ortomic eh vabbè facciamo infiniti e lui lo scioglie in rally tanto senza problemi come giochi zillion contro support con hard che hanno hard engage come leona nautilus tipo quella roba lì rispettandoli man è l'unico modo che hai ma non è solo zillion tia di carry che hanno generalmente zero mobility li devi giocare in questo modo cioè se tu hai contro leona non puoi cercare di di tradarla in certi momenti o di poccarla anche solo se ad esempio la E fuori cooldown di giocare sui cooldown dei dei support man funziona tutto tutto così devi giocare intorno a queste cose e se non ti lasciano spazio semplicemente hanno giocato bene loro e tu non puoi farci molto è una debolezza del tuo campione tutti i campioni hanno una debolezza più o meno eeeh questo baron li ha siti già? yeah vedi già figa ho tre item e qui non mi piace davvero intorno sinceramente ho un po' troppi danni ok 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 quindi a top quindi qui al massimo c'è il zack ottimo ottimo vediamo come subito se riesco la mando sul disco un rengar ha distrutto le torri delle inibitorie nemiche da solo senza mino per poi andare ma si me l'han detto sta cosa di rengar spacca spacca mondi what the fuck è partito boh questi rengar matti eeeh le wardicine no anche gara mette settare delle ward prima facca troia che danni della madonna che mi ha fatto ok good job last one porca troia non so come il primo non l'ha viettata ciao cocco buonanotte la ulti è così addirittura un pochino eccessiva raccoliamo ciao shark no crit 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 a questo punto del game è sempre crit eh figa no prendo prendo qualcosa e ribecco per l'infinity non becco l'usir no senso ciao avion va in palestra va in palestra man va in palestra ti fa bene man diventi dio cazzo adesso c'è un'altra wave cleariamo quella e recall ok 1 2 1 2 3 1 2 3 via ok oh sono tentato da un minion ultimo item invece facciamo il lord dominic a sto punto non ho perso il carretto non ho perso il carretto va grafico 20 secondi drake perché sta durando così tanto questa partita eh anche questo non è molto good ho fa cappato tutto dio santo ho beccato ogni cosa nei denti oh fuck and eh potrebbero no no fuck jesus christ that's bad ciao salmon man ah ribaltare il fight non lo ribaltavo però figa una morte con flash heal così dio santo ok good meno kazix ripreso quell'1v1 smerdato di prima no no salmo non mi sono tagliato i capelli sono i capelli che sono legati sono un po' un po' sciolti ma il lifesteal shark whale l'ha nerfato cioè si ha nerfato il lifesteal overall però hanno dato un po' di hp che non è malissimo non so se la mira se la piange forte probabilmente lifesteal ragazzi cioè who fucking cares about lifesteal quando la gente vi tocca ed esplode pur story e ho qui a guardato però non mi fido a passare di lì e comunque mondo giocare bot no no mondo giocatore ho ho damn che citone bastard lul fucking get citone dio santo let's go il problema è che questo game non so se me lo porta a casa no 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 che è che è sta cosa che è che è mi bere da sola ma non so se riusciamo a farcela lei c'è questa merda qua paura che non la one shotiamo mica vivacca troia cosa è successo si è bloccato non volevo stilaria ma sei un bidone eh si no qua me lo merito me lo merito c'avete ragione vacca puttana quanto cazzo è sopravvissuta il randwin è stato mi sono fatti terra dal coso del randwin e ha fatto così tanto non c'ho lifesteal però c'ho veramente zero lifesteal no però mi serve il randwin e faccio il randwin vendo il collec io però il collettore a me piace da dio vendo il collettore e faccio del lifesteal mi serve roba mi serve per forza del lifesteal devo fare un campo sono un ricoglionito mi serve per forza del lifesteal se no cioè non per forza il problema è che qui non fanno fight continuano a macinare come dei cosi e mi serve un modo per rilarmi tra un fight e l'altro ciao deva cruza come stai man ciao dami re buonanotte quindi vediamo posso fare brama sangue se no vabbè l'unica opzione l'unica opzione è lifesteal crate quindi direi brama sangue bene bene devo questo qui lo lascio farmare però la gente che muore sempre prima del drake è bad come on come on qui qui cosa c'è oh fuck mi hai dato ma quando ma dove non potevo farci niente questo era il massimo che potevo fare e rip 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 eh ci ha dragato ci ha dragato cioè cercare il fight 4v5 è un po' è un po' da pirla però ci ha dragato purtroppo vein scala vein scala e noi non possiamo one shot buttarlo non possiamo assolutamente fare uno v5 non è quello che fa jim abbiamo colpi limitati e viene troppo dura con questi due vein troppo dura per noi idem lui lui è duro da raggiungere è fine possiamo anche killare il problema è che fa più danni di noi secondo me sul singolo quanto si vende questo 2.100 ok devo arrivare a 1.3 ah fuck non c'ho i soldi per il va bene saranno i soldi per questo fuck il bar come on credit l'execution non è il problema è che non è dura perché si la cioè raga vein sicuramente l'ilano tutto quello che volete il problema è che l'execution su gin 1 è un'intata è un item che dà troppo poco dobbiamo lasciare prendere a qualcun altro soprattutto se siamo noi quelli con così tanti con così tante kill soprattutto ecco vedete c'è ad esempio c'è zilian basta zilian dal nostro dal nostro lato in realtà servirebbe tipo anche i raid le robe del genere ma comunque se lo prendiamo su gin perdiamo troppi danni più vein e tank perché c'è quel randuin e l'arco scudo non per l'ealing penso che sia il problema minore tra le cose let's go let's go però vedete ci serve cosa fai dell'ealing dell'ealing sarà un problema oh io cosa fai è un pochino carriato raga però dovete fare il vostro let's go let's go let's go clear 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 andiamo non chiuderemo mai però perché se non gli faccio danno ok vediamo se è una buona scelta ce ne accorgiamo subito se abbiamo fatto la vaccata suprema f**k mondo di vijoker bot però mondo seriamente what the f**k speccata un colpo di ulti per fortuna f**k dimmi te comunque che incompetenza dio santo top laner che gioca col team col tp up con due inhibitor down che incompetenza qui mi rischi di morire però ok ok i nostri minion dovrebbero pushare anche la grand ok 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 grazie Un alleato mi è stato ucciso Ah F F F I guess Deserved lost I guess I guess I guess I guess Ok I guess No no non è assolutamente per i campioni Ragazzi c'è troppe troppe cose Che sono andate veramente per il verso Fottutamente storto dio santo Top laner che gioca insieme al team E ci ha fatto perdere due torri del 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 Grazie.